eccoci ciao trenini 2d scusate ho sbagliato 7 ok door dash una delle più antiche mappe di fall guys giusto c'è sempre stata e sempre ci sarà tu chi sei dove sei quel pollo ecco ti che sarebbe la carina sei tra i primi 10 sei tra gli ultimi 10 ti porto sfiga su un video pre registrato ma è incredibile dai su attenzione salta salta tira spacca dove secondo vabbè va lì che bello il genio della lampada circuit si ripete questa gara dello scorso video e cosa possiamo dire che già non abbiamo detto ho farbacco ci sono delle ventole perché cosa succede se la prendi è un po' lì in avanti se vuoi è un po' lì in avanti ma che fai torna indietro no non ci siamo proprio è un po' lì in avanti 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 da mon è una cicca scusate interno qualificato primo non significa che vincerai over board eh heroes si eroi degli over board attenzione hanno tutti il nome sopra e ora non più cosa rende difficile questa gara signorino daemon i figli che vanno su e giù e basta ah ok e qualcuno riesce a cadere anche eh si non c'è quello è un problema no quello non è un problema io sei sempre in avanti non c'è niente oh devo stare senza i slayer quelli si che tenono eh poi basta rivederli su più nooo e ora? ah devi spettare l'over board ah se cadi se cadi perdi no? no si wow vedi qui non bisogna saltare se no prendi il palo in faccia ho capito e se cadi cadi nel vuoto oh 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 questa è la parte più bella mi piace di più guarda qui con le trappole oh 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 wow 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 gente che vola ci 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 falmonte di nuovo finale 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 quello di prima era simile a falmonte ma non era falmonte no? no no non era simile era ragazzi come falmonte ma abbiamo cambiato un po' il percorso davvero davvero chissà sti sti programmatori che fatica che fanno guarda qui fa un botto qui io sono un bravo che poi questi giochi di solito prima che arriva vince eh sì ti ricordi la prima volta che l'abbiamo preso e non ce l'ha contato e hanno vinto gli altri che ti sei arrabbiato? no no peggio l'altra volta mio fratello ha preso la skin il body tutto nero tutto scagato e vince il corone eh vabbè per tutte quelle capelli vittorius another time eh no panini 3d eh lì guarda che ballo che faccio panini 3d ciao amici sì l'ho fatto eh ciao